Benvenuto in News Mix Up, ricorda di iscriverti attivando la campanellina, lascia un bel like e commenta. Il tuo supporto è fondamentale per il nostro canale. Grazie, in un'altra tragica vicenda che ha gettato un'ombra di tristezza sull'Italia, una giovane vita è stata spezzata improvvisamente a causa di una misteriosa malattia. Questo ennesimo dramma ha colpito il cuore di amici e parenti, lasciandoli senza alcun preavviso di ciò che sarebbe accaduto, negli ultimi tempi, il nostro paese ha registrato un allarmante aumento di malori improvvisi. Ciò che preoccupa maggiormente è che questa terribile tendenza sta coinvolgendo una fascia d'età sempre più giovane. Giovani ragazzi senza alcuna patologia apparente muoiono in modo inesplicabile durante il sonno o a seguito di malori improvvisi. I suoi genitori, Angelo e Letizia, che vivono a Ponte Curone ma sono originari di Castelnuovo Scrivia, erano rimasti senza notizie della loro amata figlia per alcuni giorni. Preoccupati, hanno contattato l'ambasciata italiana Tokyo, che ha prontamente avviato le ricerche. Purtroppo, quando sono giunti nella casa giapponese, l'hanno trovata senza vita, le cause esatte della sua morte rimangono ancora sconosciute, ma sembra che sia stato un evento naturale, poiché la porta era chiusa dall'interno e non sono stati rilevati elementi sospetti. Questa tragedia ha sconvolto non solo la famiglia, ma anche gli amici e i conoscenti, che ora la ricordano attraverso toccanti messaggi di cordoglio sul profilo Facebook dei suoi genitori. La notizia di questa tragedia ha rapidamente fatto il giro del web, lasciando dietro di sé un sentimento diffuso di sgomento e rimpianto per questa terribile perdita. La vittima, Elisa De Marco, una giovane di 27 anni originaria di Tortona, aveva trasferito la sua vita in Giappone per motivi di studio e lavoro.